Essere accostato al Pescara per me è un vero onore. Queste le parole rilasciate dall'ex tecnico del Lanciano Marco Baroni, diventato il favorito per la panchina biancazzura dopo l'incontro di lunedì tra la dirigenza pescarese e Marco Giampaolo. L'allenatore nato a Giulianova infatti non ha trovato l'accordo economico. La differenza sarebbe di 100.000 euro e al momento non si trova sulla stessa lunghezza d'onda con la dirigenza del Delfino. Il candidato forte è diventato di conseguenza Baroni, soprattutto per quanto riguarda l'ingaggio che non dovrebbe creare problemi. Il tecnico fiorentino piace molto ai vertici societari del Pescara e ha mostrato grandi capacità portando il Lanciano ad un passo dai play-off. La ricerca di una perfetta organizzazione di gioco è alla base delle sue idee. L'ottima annata in terra frentana è scaturita da una fase difensiva molto affidabile e da una cura maniacale di molti aspetti come i calci da fermo, una grande preparazione atletica ed un forte senso di appartenenza per compattare il gruppo. L'unico aspetto negativo, tra virgolette, riguarda l'attacco, con la Virtus che non è sempre stata impeccabile nella costruzione offensiva. E non a caso i rossoneri hanno chiuso il torneo con il quinto attacco meno prolifico del campionato. Adesso toccherà al tandem Pavone-Repetto capire se Baroni è l'uomo giusto. La strizzata d'occhio da parte del tecnico c'è stata e un primo incontro è avvenuto dieci giorni fa. Probabilmente il vertice decisivo ci sarà domani, dato che oggi Pavone e Repetto saranno a Verona a chiudere un paio di operazioni di mercato con il Chievo. L'incontro avverrà con molta probabilità a Roma. Nel frattempo il pescarà cercato di nuovo Baby Pilon, l'ex tecnico del Carpi e l'altro nome in corsa per la panchina, insieme a quello di Davide Nicola del Livorno, con quest'ultimo che però è legato da un contratto in scadenza nel 2015.